Un servizio di volontariato per aiutare anziani e persone in difficoltà che devono affrontare visite o spostamenti all'interno dell'area vasta numero 1 è quello organizzato dall'associazione Anteas Provinciale in collaborazione con il sindacato CISL di Fano. Abbiamo individuato come destinatari tre comuni, Comune di Fano, Mondolfo e San Costanzo, per cui dal mese di giugno ci sarà operativo un telefono presso gli uffici dell'FNP CISL perché questo progetto nasce con la collaborazione dei pensionati della CISL e della CISL di Fano. Questo ci fa piacere perché comunque potremo dare una risposta veramente a situazioni di disagio che ci sono nel nostro territorio sperando che anche le istituzioni si accorgano di questo e ci possano venire incontro. I volontari che saranno sostenuti nelle spese di trasporto dai numerosi sponsor che hanno aderito all'iniziativa e dal 5x1000 si sposteranno sul territorio grazie a Dundoblò, messo a disposizione e incomodato d'uso gratuito per i prossimi 4 anni e dotato di pedana manuale per consentire l'accesso a disabili e carrozzine. Le prenotazioni per gli spostamenti si potranno effettuare il martedì e giovedì dalle 9 a mezzogiorno chiamando il numero di sportello Anteas con almeno 15 giorni di anticipo per rispettare i tempi sanitari delle strutture e permettere l'organizzazione dei volontari dei quali in questi casi c'è sempre un grande bisogno.